ragazzi oggi rispondo a una domanda che spesso viene fatta cioè qual è il modo per aprire il portellone automatico senza che lo sia nel senso manualmente alla si può fare sulle nostre 3008 l'unica accortezza da fare solamente una vi faccio vedere qual è la bisogna accendere l'auto ovviamente solamente il quadro strumenti poi da qui andare direttamente sul pulsante della autovettura comfort e qui bisognerà disattivare portellone apertura e apertura motorizzata quindi off a questo punto io potrò andare nell'auto parte posteriore e aprire direttamente il portellone dal classico pulsante farò un bip ovviamente è normale sarà anche un po duro nell'apertura però ve lo farà aprire e stessa cosa per la chiusura si chiude molto in maniera molto dura in questo modo qui il portellone sarà aperto in maniera più normale non rischiate di creare danni al sistema buona giornata a tutti spero che il video sia sempre di vostro gradimento ciao ragazzi